3 step per attivare la legge di attrazione. Numero 1. La mente non distingue una scena immaginata da una scena reale. Diversi studi hanno provato che le esperienze sintetiche, per così dire, immaginate nella nostra testa, producono in noi le stesse identiche reazioni psico-emotive che avremmo laddove quella esperienza fosse realmente accaduta. Incredibile, no? Numero 2. Ciò che immaginiamo diventa realtà. Ma come è possibile? Beh, è semplice. Ciò che immaginiamo viene registrato dal nostro cervello come una esperienza reale. Le esperienze empiriche, se emotivamente marcate, influenzano il nostro inconscio, che indurrà pensieri coerenti ad esse. I nostri pensieri precedono le nostre scelte ed azioni consce e istintive. Numero 3. Attrai ciò che sei. È scientificamente provato che in questo universo tutto vibra a diverse frequenze. Frequenze simili si attraggono. Quando cambi il contenuto del tuo inconscio e a seguire i tuoi pensieri e le tue azioni, ciò che stai facendo è cambiare la tua vibrazione. Non solo questo loop si rinforzerà ad ogni nuova azione coerente, ma inizierai ad attrarre anche ciò che risuonerà alla tua stessa vibrazione. E tu? La stai già applicando nella tua vita? Iscriviti per restare aggiornato su nuovi video.